allora ragazzi buon sabato a tutti domani giorno di pasqua e state tranquilli vi lascerò stare nessun video previsto per domani festeggiate pure tranquillamente senza dover rincorrere i miei video dai sto scherzando allora partiamo quindi con il resoconto di marzo dei dividendi incassati ho messo un bel ok perché si è stato veramente un marzo veramente molto molto buono per annuncio subito marzo record il miglior marzo di sempre per quanto riguarda l'importo dei dividendi incassati per chi non lo sapesse sono lorenzo autore anche del romanzo finanziario pensionato a 50 anni il mio obiettivo è proprio quello di raggiungere il pensionamento anticipato attraverso un flusso crescente di dividendi e di cedole attraverso i miei investimenti finanziari vi guido quindi col mio canale youtube attraverso questo mio viaggio spero che possa esservi utile magari potete prendere come spunto le mie iniziative e allora andiamo a vedere quindi cosa ci aspetta dai mercati un 2021 finalmente brillante sotto il punto di vista dei dividendi 2021 che si è già aperto con un dividendo di stellantis l'ex fiat o fca e intermonte stima che dopo un 2019 con un monte dividendi per quanto riguarda l'italia di 20,25 miliardi distribuiti e un 2020 di soli 13,8 miliardi il 2021 tornerà a crescere come importo distribuito dalle aziende del fuzzimib sotto forma di dividendi arrivando a 15,9 miliardi di euro ma come sapete bene i miei investimenti e come dovrebbe essere il portafoglio di tutti sono ben distribuiti un pochino in tutto il mondo errore mio lo dico sempre sono un pochino troppo focalizzato sull'italia ma sto ponendo rimedio a questo sovrappeso allora andiamo quindi a vedere un pochino il resoconto del mese andiamo a vedere comunque la panoramica generale e poi il dettaglio dei singoli dividendi incassati nel corso del mese ma prima di partire come sempre vi chiedo un bel like a questo video farete lavorare l'algoritmo in maniera positiva cercando di far crescere anche il mio canale youtube se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e schiacciate sulla campanella per ricevere una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video partiamo subito allora partiamo subito dalla grande tabellona che potete anche trovare sul mio blog dividendi.europress.com possiamo vedere come appunto il mese di marzo mi abbia regalato o meglio abbia visto un incasso perché non si tratta di regali se tratta di soldi investiti mi abbia abbia visto un incasso di dividendi di 322,66 euro il peggior mese dell'anno di sicuro ma possiamo vedere anche come storicamente marzo sia stato in realtà sempre un mese abbastanza magro sotto il punto di vista dei dividendi ma possiamo anche vedere come i 322 euro di quest'anno siano in realtà rappresentino il miglior marzo di sempre battendo anche il marzo dell'anno scorso quando incassai dividendi per 298 euro quindi la media del 2021 si attesta a 393,87 euro ma ormai è alle porte un trittico di mesi molto molto interessante aprile maggio giugno aggiungiamoci anche luglio dovrebbero essere mesi molto ricchi sotto il punto di vista dei dividendi e quindi da qui arriverà l'atteso rialzo della media sperando di poter raggiungere il mio obiettivo finale dell'anno ovvero 6.000 euro di incasso di dividendi che rappresenta una media di 500 euro al mese allora quindi andiamo a vedere da dove sono arrivati questi 322,66 euro incassati durante il mese di marzo come sapete il mio portafoglio è molto molto ben diversificato molti di voi potrebbero dire caspita però hai più di 80 titoli in portafoglio è vero sono tanti bisogna farci attenzione chiaramente è un portafoglio che necessita comunque una piccola manutenzione un piccolo controllo io una volta al mese mi metto lì e guardo i miei titoli come stanno andando non di più per me una volta al mese è più che sufficiente e magari apporto qualche correttivo difficilmente vendo più facilmente comunque tutti i mesi diciamo aumento un pochino gli investimenti per quanto mi riguarda un portafoglio composto da 10-20 azioni è veramente un portafoglio diversificato malissimo se invece parliamo di fondi o etf in realtà potrebbero bastare magari anche soltanto 2 o 3 fondi etf per andare a comporre comunque un portafoglio già molto ben diversificato procediamo quindi allora possiamo vedere come nel mese di marzo sono arrivati 18,27 euro dall'etf in vesco sulle preferred shares ovvero sulle azioni preferred possiamo dire quelle che staccano dividendi alti e che andremo ad analizzare lunedì in un video apposta poi 3,80 euro dall'etf sui mercati emergenti in dollari un etf che distribuisce ogni mese poi 9,76 euro dallo spider aristocrat zona euro 7,18 euro dal pinko con dividendi mensili sempre mercati emergenti 1,01 euro da intel 9,45 euro da shell 6,15 euro dall'invesco che investe sulle azioni dello standard sports 500 ad alto dividendo e bassa volatilità 5,28 euro dividendo mensile del vanguard sui obbligazioni di mercati emergenti 15,78 euro da prudential compagnia assicurativa americana 4,52 euro da emerson electric eccezionale dividendo in kings presente nel mio portafoglio woolgreens boots alliance mi ha portato in dote 14,76 euro 12,29 euro da pfizer andando avanti 3,44 euro da ibm 5,27 dall'etf sulle obbligazioni in dollari high dividend quindi high yield 6,74 euro da southern company 1,07 euro da johnson & johnson 4,39 euro da unilever 42,06 e dall'etf anche questo high yield in euro 9,96 euro dalle high shares che stacca mensilmente sui mercati emergenti obbligazionari però con copertura a cambio 42,99 da un altro pinco high yield con copertura del cambio 10,06 euro da un etf che ha una piccolissima quota che investe in azioni ad alto dividendo inglesi comprate quando c'era stato un calo della borsa inglese e poi vediamo 1,04 euro da Amgen 4,91 euro da Consolidated Edison 5,63 euro dall'Invesco un etf che investe nell'azionario mercato emergenti a bassa volatilità e 15 euro da un'obbligazione mediobanca dei miei certificate 61,85 euro valore totale 322,66 euro quindi abbiamo visto i dividendi raccimolati nel mese di marzo aprile ricalcherà per quanto riguarda molti titoli gennaio ma poi quello di aprile in particolare per chi distribuisce trimestralmente sarà di nuovo la volta di un'obbligazione banco BPM sarà di nuovo la volta di tutti gli etf che distribuiscono mensilmente sarà ancora la volta dei certificates sarà la volta di altria sarà la volta di un fondo attivo schroder sulle high yield e poi di nuovo mi aiuteranno nell'incasso dei dividendi anche tanti altri fondi ed etf ed azioni che ho in portafoglio che hanno staccato in gennaio quindi per oggi abbiamo visto quindi come è andato marzo domani come detto prima non ci vedremo vi faccio quindi gli auguri di buona Pasqua in questo momento ci vedremo lunedì con un bellissimo video sulle azioni preferred shares che sono azioni ad alto dividendo possiamo vedere cosa sono potremo vedere come investire è anche una alternativa ditemi pure la vostra com'è andata in marzo sul fronte dei dividendi che aspettative avete per i prossimi mesi se volete come sempre mi trovate anche sugli altri canali social e tra l'altro è nato da poco un chat telegram se non avete visto il messaggio nella mia community andatelo pure a vedere o magari iscrivetemi che vi darò il link per entrare un caro saluto a tutti a presto da Lorenzo ciao ciao